Un aperitivo di Natale, quello dell'Associazione Nazionale Costruttori della Provincia dell'Aquila, che è stato anche l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte dei cantieri della ricostruzione nel cratere sismico abruzzese. Il cantiere più grande d'Europa e a dirlo sono i numeri. Sono infatti 1.436 le imprese iscritte alla Cassedile della Provincia dell'Aquila, 9.700 gli operai impegnati nei cantieri, di cui 2.500 stranieri. Emerge poi che il 60% delle ditte sono di fuori provincia e ben 5.300 operai arrivano da altri territori. Insomma, la ricostruzione aquilana fa da volano all'intero comparto edilizio abruzzese e anche nazionale. Il neopresidente dell'Ancel'Aquila, Ettore Baratelli, nell'illustrare il bilancio del 2016 oramai gli sgoccioli, enfatizza anche l'accordo con l'università che intende fare dei cantieri aquilani un laboratorio didattico unico in Italia e forse in Europa. Proponiamo un'offerta formativa con gli studenti che entrano nei nostri cantieri, passano dalla teoria alla pratica, ma soprattutto usufruiscono dei benefici dei corsi di formazione professionale e sicurezza sul lavoro del nostro ente scuola. Un attestato che li seguirà per tutta la vita perché è lo stesso percorso che hanno le nostre maestranze e i nostri dipendenti. Su 101 associazioni anci in Italia, ricorda poi Baratelli, quella dell'Aquila è sedicesima per volume di lavori e monte salari e considera un passo ulteriore in avanti l'accordo con la regione che prevede la sburocratizzazione della filiera dell'approvazione dei progetti. Con un accordo, con un emendamento che è stato approvato in Consiglio regionale già poco tempo fa, le imprese confinanziano l'istruttoria delle pratiche sisma, l'Aquila e Teramo, in maniera tale da poter cercare di rimuovere nel più breve tempo possibile le criticità dell'approvazione dei progetti da parte del Genio Civile. Questa è sicuramente una forma virtuosa di sburocratizzazione. E c'è un altro dato da evidenziare, il numero bassissimo di infortuni con nessun caso mortale registrato. Fortunatamente non si sono registrati incidenti mortali, incidenti di un certo livello, ma tutte cose gestibilissime. Quindi vuol dire che il binomio formazione e poi controllo da parte del CPT e del settore sui cantieri fondamentalmente è una formula che funziona perché i dati lo dimostrano. Nell'Aquila appossismica, dove sono stati elargiti generosi aiuti a fondo perduto all'attività produttiva, e a professionisti di ogni sorta, dove in centro aprono gioiellerie, ristoranti ed enoteche per elevato target, c'è anche chi nel contado circostante è stato lasciato solo. È il caso emblematico del signore Enrico Marucci, allevatore di Monticchio, frazione del Comune dell'Aquila, produttore di latte. Il terremoto ha danneggiato le tettoie dei suoi capannoni, dove ora ci piove, distrutti i costosi silos, la sala mongitura. Ma non riesce, pur avendone diritto, ad accedere ai fondi previsti già dai tempi del commissario straordinario Guido Bertolaso per riparare i danni subiti dall'azienda agricola e del cratere sismico. Infatti questi fondi, inseriti nel piano di sviluppo rurale, presuppongono l'anticipo della somma da parte del beneficiario. E il signor Marucci non ha potuto farlo per via di un piccolo protesto di 4.200 euro, poi sanato, che lo ha fatto iscrivere nella lista nera dei cattivi pagatori, ed ora nessuna banca gli fa credito. Quei soldi che hanno stabilito di darci per le ricostruzioni dell'azienda agricola, sono stati soldi che i soldi per ricostruire ce li hanno messi al PSR. E col PSR è difficile per gli affinanziamenti, perché uno deve stare a porre quello con tutto. A me mi è capitato che ho avuto un contrattempo con un assegno che mi è andato a male, sono rimaste le segnalazioni e quando sono andato alla banca a chiedere i soldi, perché le pratiche erano tutte pronte, la banca ha visto i centrali rischi e mi ha bloccato i finanziamenti. Io aspetti i soldi che sono dal giorno appresso al terremoto. Prima del sisma il signor Marucci aveva 70 animali, poi li ha dovuti ridurre a 35, perché si è ridotto lo spazio dei suoi capannoni. Il suo reddito è crollato e pur volendo non ha i soldi, circa 200.000 euro, per rimettere tutto a posto. Tenuto conto poi che il latte è pagato una miseria a 40 centesimi al litro. In poche parole, io oggi come oggi, sopra le spalle ho la famiglia, la moglie, due figlie, un operaio con tre figli e non riesco ad andare avanti. Sul suo volto i segni della stanchezza. Io ho 60 anni, si sfoga, devo campare tutta la famiglia con queste vacche, ma non ho le stesse forze di sette anni fa e seppure prendo questi benedetti soldi avrò l'obbligo di portare avanti l'attività per altri dieci anni. Ma evidenza il signor Marucci, non ho fatto nessun patto con il padre eterno. Io sto in confusione mentale, che prospettiva possa avere ormai? Quando sono 80 non si vede niente, che mi è difficile fare piccoli interventi tipo cacci 10.000 euro e rimetti i ternizi sopra e poi le altre cose con quelle faccio. Io mi sono bloccato qua. Grazie. 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 Grazie.